Cari amiche e cari amici, continuiamo il nostro raffronto riguardo alla religione pagana. Vi ricordo che pagano fu un termine spregiativo che fu utilizzato proprio per la prima volta dai cristiani, che vedevano i pagani come superstiziosi, dunque come abitanti del villaggio. Pagus significa villaggio, quello che a Roma oggi si chiama il burino o i burini. Nel romanesco il burino indica il cafone, il contadino cafone, ed erano dei contadini che venivano a Roma a vendere il burrello, che è un caciocavallo che ha il cuore di burro, e da qui viene burino. Quindi pensate che i primi cristiani, come oggi il vocabolo è rimasto ancora nel romanesco burino, e così quando gli antichi cristiani parlavano della religione solare, parlavano di pagani, come se oggi disessero appunto dei burini. Abbiamo visto che per il cristiano Dio costituisce un appoggio, un riparo. Dio è quello che ti accoglie nelle sue braccia amorose, dove ti puoi rifugiare, puoi chiedere consolazione quando sei disperato, puoi confidare a Dio i tuoi problemi, chiedere a Dio di aiutarti a risolverli. E il mondo viene considerato come una creazione a servizio dell'uomo. Dio dona all'uomo il mondo nella sua infinita bontà. Ogni creatura, però, è tenuta a comportarsi secondo una morale. E questa morale distingue nettamente il bene dal male. I fatti buoni, dunque, dai fatti cattivi. I comportamenti giusti da quelli peccaminosi. Tutto questo secondo un codice prestabilito, che è, secondo i cristiani, dato dallo stesso Dio. Pensiamo a Mosè, quando riceve le tavole della legge con i dieci comandamenti. Quindi lì, secondo la tradizione, è Dio che dice come ci si deve comportare e come non ci si deve comportare. Sono le prime dieci regoli, che in realtà sono undici. Anche se ne dice sempre dieci. Perché dieci è stato fatto per avere la comodità di contarli sulle mani. Ma in realtà, se ci pensate, all'inizio è io sono il Signore Dio tuo. Quello è il primo comandamento. Quindi sono undici. Ma in genere si dice come una sorta di frase preparatoria. Io sono il Signore Dio tuo. Uno, non avrai altro Dio all'infuori di me. Comunque, questo non è importante. L'importante è che c'è una morale che per i cristiani è dettata da Dio, dove sono nettamente distinti il bene dal male, i fatti buoni dei fatti cattivi, e le norme comportamentali. E tutto questo modo di pensare e questa visione è totalmente diversa da quello che era l'austero ethos pagano, che aveva tutt'altra visione. E la dicotomia bene e male è talmente evidente, talmente esasperata, anche potremmo dire sotto certi aspetti, che la divinità, Dio, è vista come il sommo bene. E a questa fa riscontro un'entità opposta che è il diavolo, che infatti è visto come sommo male. E questo pure è un'anomalia, perché il serpente, per esempio, viene visto nella tradizione cattolica, il serpente antico, come male. Chiunque studia simboli sa che i simboli non hanno mai un solo significato. I simboli hanno sempre un duplice significato, significano una cosa e il suo opposto. E per penetrare il reale significato bisogna vedere il contesto in cui è inserito il simbolo. Invece qui c'è questa cosa paradossale che in questa divisione netta tra bene e male all'uomo viene imposto il bene a cui deve tendere. E quindi perché? Perché c'è un Dio che è bontà assoluta. E l'uomo deve guardarsi invece dal male assoluto che è il diavolo, che rappresenta appunto il male in senso assoluto. E quindi il cristianesimo separa in due parti opposte l'unità dell'universo e della vita. E in questo modo viene ad essere ripudiato come peccaminoso tutto quello che attinenza, ad esempio, col sesso. Anche il sesso, secondo la visione cattolica, ma cristiana in generale, anzi ci stanno altre chiese che sono pure cristiane che sono pure peggio dei cattolici, c'è pure qui il bene e il male in maniera decisamente staccata, sempre appunto perché se esiste una divinità che è assoluto bene, in una divinità che è assoluto male, e questo si rifletterà anche nelle varie, nell'etica e nelle varie norme comportamentali. Rispetto alla sessualità, pensiamo che il concetto di impudicizia, cioè il cristianesimo, ha relegato per secoli il corpo nel campo del male, mettendo in guardia dai rischi che questo comporta. E così molto di ciò che costituisce l'essenza della vita, il sesso, è fondamentale proprio per la vita. Il sesso è vita, no? È vita. Attraverso l'atto sessuale l'uomo crea la vita. Non è un caso che il diavolo, che quindi è la forza opposta, viene raffigurato come era raffigurato anticamente il Dio Pan, con le zampe di capro, con le corna, le orecchie a punta, gli occhi obliqui, una barbetta, esattamente come il Dio Pan. E chi era il Dio Pan? Era un demone? Era un diavolo? No, era il Dio della vita. Il Dio Pan era quella forza che fa crescere e riprodurre sia gli uomini che gli animali e le piante. Quindi vedete anche qui un simbolo, un simbolo ribaltato dai cristiani in realtà e utilizzato per raffigurare questa scissione tra bene e male e quindi in questo caso il male assoluto che è il diavolo. Dunque, come possiamo vedere, la differenza tra concezione del mondo e della divinità per quanto riguarda cristiani e pagani c'è veramente un abisso. Un abisso. Poi un altro luogo comune da sfacatare perché è stato insegnato a scuola e non solo nell'ora di religione, che tutti temono st'ora di religione, quando l'ora di religione è importantissima. Questa è un'altra cosa. Io a scuola ho sempre consigliato ai genitori di far fare l'ora di religione ai bambini. È importantissima l'ora di religione. Perché? Perché non bisogna vedere tutto in chiave di entrinamento. Anche perché se c'è una famiglia che ti parla di religione in un certo modo, mettiamo una famiglia atea, il bambino in realtà l'ultima parola ce l'hanno i genitori. E quindi se si spiega al bambino che si vuole ateo, che bisogna ascoltare le parole che dice l'insegnante, tenendo conto che c'è anche chi la pensa in maniera diversa e così via, insomma, è possibile che il bambino assista all'ora di religione. Perché dico che è importante? Perché tutta la nostra cultura nell'arte, nella letteratura, è fondata sul cristianesimo. Pensate che tutta l'arte dalla caduta dell'impero romano, fino al rinascimento, è solo esclusivamente arte sacra. E pensate solo, non conoscendo nulla della Bibbia, come non conoscono nulla, perché questi non fanno l'ora di religione dalle elementari fino al diploma di laurea, ma non è che poi leggono e approfondiscono per conto loro. Tant'è vero che fantastico, gentile, grandissimo filosofo, aveva sostenuto, nonostante che fosse gentile, laico e ateo, però aveva detto no, la religione va benissimo ai bambini degli elementari, perché serve come propedeutica poi per il ragionamento filosofico, che a quell'età non è possibile fare, ma servirà per dopo. Comunque, va bene, questo è un breve inciso. Ritorniamo al tema. Dicevo, il pregiudizio qual è? è che le religioni monoteistiche costituiscono un'evoluzione rispetto al politeismo. E questa è la convinzione di moltissimi. Prima c'erano i politeisti superstiziosi, sciocchi, ingenui, creduloni, e poi finalmente l'uomo crescendo e maturando passa al Dio unico. E quindi si ritiene che l'uomo antico fosse una sorta di primitivo da questo punto di vista, perché era incapace di concepire un Dio unico. E dunque si costruisse a seconda delle proprie necessità di vita diversi dei. Ma questo non è affatto vero, è veramente una sciocchezza. Se voi leggete autori seri, è stato ormai stradimostrato, ma da autorità proprio di storia, di storia delle religioni, di antropologia, di etnologia, che sia i pagani dell'antichità, ma come le ultime popolazioni che nel Novecento si sono studiati di popoli primitivi esistenti ancora oggi, hanno sempre nelle loro concezioni religiose un Dio che prevale. Quindi possiamo dire che nelle concezioni religiose e cosmogoniche degli antichi c'era un essere sommo, superiore agli altri dèi. La preghiera che si diceva nei misteri eleusini, spero molto di ricordarla, di non fare brutte figure, era Conosco un unico Dio che siede sull'Olimpo e bagna i suoi piedi nel mare Geo. Il suo capo è circonfuso di folgori. Egli è maschio e femmina. Immortale fanciulla ed eterno fanciullo, il suo nome è Zeus. Ecco qua. Come inizia? Conosco un unico Dio che siede sull'Olimpo. E poi c'è la descrizione che dà è simbolica, ma è fantastica, è elevatissima. Sta sulla montagna, abbarica il suo piede nel mare Geo. È come in cielo, così in terra. La comunicazione tra cielo e terra. È maschio e femmina. Ecco il Tao. Immortale fanciulla ed eterna fanciulla, circonfuso di folgori. È la potenza di Dio. Il suo nome è Zeus. Tra l'altro Zeus viene dall'indo europeo Z. Poi per i greci era Zeus, che in latino diventa Deus. Per Giove è Zeus. In greco Dio si dice Theos, in latino si dice Deus e diventa in italiano Dio. E quindi non è vero che i pagani non erano in grado di arrivare al cosiddetto monoteismo, a questa grande elevatura. No, assolutamente no. Anzi, il monoteismo è il risultato proprio di un'azione dei secoli, secondo la tradizione, di ciò che procede verso il basso dell'essere umano. Io parlavo in India con un pandit che mi disse sì, il cristianesimo è la religione del Kaliuga, perché è una religione molto semplice, non voleva dire, non la stava disprezzando, però la spiegava, diceva, è molto semplice, è molto per bambini, con questa sorta di Dio che è evidente che sono proiezioni umane, che sono tutte le debolezze degli uomini proiettate su Dio, per cui l'uomo muore, Dio è mortale, l'uomo è debole, Dio è forte e così via, dice, è una religione un po' bambinesca adatta per il Kaliuga. Dunque, il monoteismo è il risultato di quest'azione perfettamente in sintonia con questo procedere dei secoli verso il basso, con il degrado del Kaliuga. Il cristianesimo ha cancellato poi tutte le gerarchie delle divinità, tutti i vari numi e tutti i vari demoni. Alcune sono state assimilate, cioè c'è stato un periodo in cui il cristianesimo cercava di affermarsi, ma ovviamente c'erano stati secoli di cosiddetto paganesimo e quindi il popolo non si staccava da quelle che erano la precedente religione. Per questo nascono molti santi nell'ambito della Chiesa Cattolica e se vedete i santi, quella che protegge il mal di gola, quell'altro che aiuta quando ha la febbre, hanno delle corrispondenze con quelle che erano le divinità pagane, anche se hanno assunto tutto altro significato appunto. Ma la Chiesa fece un'opera di trasformazione cercando poi e tenendo conto di quella che era la sensibilità, per cui per i romani erano molto importanti Romolo e Remo in quanto fondatori di Roma e quindi a questa potenza del mito di Romolo e Remo si sostituisce quella di Pietro e Paolo come fondatori della Chiesa. Ed è interessantissimo seguire il processo proprio di trasformazione molto particolare di questo periodo, quindi fine dell'impero romano e inizio dell'espansione del cristianesimo. ed è interessante per esempio molti amici mi sono venuti a trovare a Roma li ho portati a vedere la porta linea qui a Roma più antica è la porta della Basilica di Santa Sabina che sta a Laventino e lì per esempio è interessante perché è raffigurato tra le varie sculture in legno il profeta Elia che sta su un carro di fuoco e va verso il sole questo è un basso rilievo in legno sulla porta ed è interessante perché è rappresentato proprio in maniera identica identica a come i pagani rappresentavano Elios il dio del sole che stava su un carro e non è un caso che poi il dio del sole è stato tradotto in termini simbolici con con Elia poi ripeto queste cose hanno cambiato di significato ovviamente no perché si 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 poi si è voluto eliminare tutto l'aspetto della terribilità di Dio ed è stato relegato al maligno al diavolo tant'è vero che mentre nelle religioni pagane c'è perfettamente l'accettazione del ad esempio dei fenomeni naturali delle devastazioni e così perché perché Dio è l'una e l'altra cosa appunto come dicevano i misteri elusivi è maschio e femmina insieme no e comprende bene e male insieme ed è nello stesso tempo al di là del bene e del male e per questo che i pagani includono determinati fenomeni nella loro Weltanschau nella loro capacità di percezione della realtà nella loro visione della realtà mentre i cristiani non si sanno spiegare dicono ma come mai quelli stanno facendo la prima comunione c'è stato il terremoto e sono morti tutti i bambini che facevano la prima comunione per i cristiani è inspiegabile e se si chiede a un prete cristiano perché possono accadere queste cose lui ti dirà che la misericordia di Dio è incomprensibile per l'essere umano e non arriveremo mai a capire il perché di questo e vabbè questo è il punto perché questa scissione netta tra bene e male comporta poi un sacco di contraddizioni anche dal punto di vista logico perché seguendo la logica uno dice se stanno dei bambini innocenti a fare la prima comunione non devono morire proprio quelli sotto alla scossa di terremoto ma se tu hai separato il bene dal male in maniera così categorica eh non tornano i conti comunque il monoteismo è il risultato dunque di questo degrado del Kali Yuga non è qualcosa dunque di una evoluzione è decisamente una involuzione e dicevo appunto che il cristianesimo pure ha annullato tutte quelle gerarchie di divinità di numi di demoni che avevano valenze simboliche e queste forze per il paganesimo si collocavano proprio tra il piano dell'uomo e quello della divinità suprema di Giove rispetto ai misteri Eleusini no? e in realtà è anche sbagliato parlare di vari piani perché possiamo dire che Dio era concepito al di là di tutti i piani e al di sopra anche di ogni forma concepibile di manifestazione anche metafisica e invece le varie divinità costituivano l'espressione di Dio no? pensiamo che la funzione di Mercurio Mercurio aveva la funzione di comunicare il volere di Dio il messaggero di Dio Hermes da cui la parola ermeneutica perché qual era la funzione di Mercurio? era il riconoscimento che ciò che comunica Dio non è possibile esprimerlo a parole umane e quindi la volontà di Dio ha bisogno di un intermediario in questo caso era Mercurio che portava il messaggio degli dei di Dio agli uomini no? e quindi come vedete anche qui altro che paganesimo ridicolo primitivo superstizione c'è tutta una cultura una filosofia molto molto coerente in realtà e quindi c'erano queste varie divinità che erano gerarchi c'era una gerarchia vi dicevo neanche possiamo parlare di piani di livelli no? perché Dio appunto al di fuori perfino della manifestazione concepita anche come metafisica quindi proprio a indicare che è qualcosa di totalmente inconcepibile mentre appunto le varie manifestazioni le varie idee costituiscono invece espressioni di questa realtà inconcepibile alla mente umana e invece le divinità monoteistiche del male sono nettamente separate sono relegate appunto negli inferi nell'inferno hanno connotazioni solamente negative e diaboliche e quindi vedete anche quando i vari teosofi antroposofi ci parlano di livelli di cose tutte deformazioni in realtà invece ne emerge anche una sorta di presunzione che secondo il cristianesimo che in che cosa consiste questa presunzione che vuole comunicare direttamente con Dio prescindendo da da tutte le gerarchie di Ina e quindi si pone in diretto contatto col Supremo mentre i pagani sapevano che per certe cose per esempio c'erano i collegi sacerdotali bisogna stare fare molta attenzione non è che tutti potevano comunicare fare i riti che facevano i sacerdoti o i riti che facevano le vestali no assolutamente no e allora che succede che siccome nella visione pagana è impossibile appunto fare i rituali per le vestali comunicare in questo modo come vi dicevo nel monoteismo c'è un abbassamento della divinità perché se ci pensate rispetto a queste concezioni pagane nel monoteismo il Dio viene visto a un livello infinitamente inferiore rispetto alla visione pagana e attenzione perché anche la religione romana conosceva l'esistenza di un Dio supremo non manifestato e che pertanto non poteva essere né pregato né tantomeno raffigurato e neanche nominato per questo dicevo c'erano i collegi sacerdotali e perfino i sacerdoti lo chiamavano il Dio sconosciuto ed è molto indicativa questa formulazione cosa esprime questo concetto del Dio sconosciuto e quindi come vediamo anche in questo senso c'è una spiritualità se hanno senso questi tipo di paragoni più elevata nel monoteismo cioè quello che voglio dire è che pensare che il monoteismo sia poi stato un'evoluzione dell'uomo nella sua concezione è una cosa totalmente sballata oltre al fatto che il monoteismo crea guerre tant'è vero che i popoli conquistatori sono quelli che chiamavano Dio padre i monoteismi Dio padre no e quindi il maschile penetra conquista in India Dio è chiamato la madre divina però lentamente è chiamata la madre divina il Tao ha una concezione e anche lo Zen no fondamentalmente la meditazione sul vuoto è passività un aspetto femminile che è molto importante invece dove Dio è padre Dio ha anche le caratteristiche del maschio e tra queste anche le caratteristiche di aggressione e conquista rispetto agli altri popoli ecco lì no il Dio guardate il Dio degli ebrei sta sempre incazzato leggete leggete l'Antico Testamento sì Dio misericordioso e cosa fa Dio misericordioso grazie perché ha ucciso tutti i figli per i geniti di questi perché gli ha dato la carestia e le hai fatti morire perché è un Dio terribile Yahweh Sabaoth il Signore degli eserciti non è un caso che spesso ricorre questa appellativa nell'Antico Testamento Yahweh Sabaoth il Signore della guerra il Signore degli eserciti va bene amici e riprenderemo il discorso nel prossimo video per il momento è tutto un caro abbraccio Marco Cosmo Cosmo